Tony De Crescenzo di Larel, come mai qui a Energy Med a Napoli, a questa mostra convegno e di cosa si occupa la vostra azienda? Promuoviamo il nuovo settore di cui si occupa la Larel, quello dei ricambi per le stufe a pellet e termocamini. La Larel è un'azienda che distribuisce ricambi ormai già da 30 anni e da un paio d'anni ha iniziato nel mondo delle stufe a pellet, per cui siamo qua per far conoscere i nuovi prodotti. Quali sono questi prodotti? I ricambi proprio dei componenti per le stufe, per cui dai motoriduttori alle elettroniche ai telecomandi piuttosto che le estenze d'accensione, tutti i componenti delle stufe.